Perché Napoli? Perché abbiamo la volontà di sviluppare ovviamente una città che è molto importante nel mondo del bartending e questo perché lo facciamo con Napoli e ovviamente quando abbiamo parlato con Alex Frezza che la sua città è Napoli dobbiamo farlo qui. Abbiamo ovviamente la volontà di sviluppare le città in Italia. Adesso siamo con Milano, Torino, Roma e Napoli e nel futuro andiamo a continuare a fare questo progetto in tante città in Italia. La seconda domanda è per i clienti. Che è il svantaggio di questo progetto per i clienti nell'Oreca? Allora vorrei dire semplicemente che nel mondo del lavoro non ci sono tanti progetti, in senso di creare un'opportunità per giovani in Italia e in questo senso creiamo un altro dialogo con i clienti. Parliamo di fare bene le cose, di fare le cose giuste. In questo senso questo progetto aiuta a rinforzare la reazione con i clienti ma soprattutto anche di trovare persone qualificate con la volontà di fare bene. Come lo sappiamo è difficile trovare persone nel settore dell'Oreca e con questo progetto abbiamo un'alta qualificazione ma anche con una mentalità, con una motivazione molto alta. Grazie Grazie Grazie